bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo video importantissimo strepitoso micidiale dopo il video di ieri notte in cui presentavamo con tanto di spaccaging la nuovissima arrivata la DJI Osmo Axion 3 che in questo momento vedete montata qua sul Pixi tra l'altro soluzione molto molto comoda perché Pixi fa anche da comodissima asta vlog questa è la configurazione che intendevo appunto di utilizzare oggi dicevo dopo il video di presentazione e spaccage di ieri notte che vi invito calorosamente a vedere arriviamo adesso a fare il primo video di test sul campo della Axion 3 non è una recensione approfondita non sono dei reali test sul campo in diverse situazioni faremo poi anche quello faremo invece in questi giorni dei diciamo pre test delle le uscite di inauguraging appunto della nuova Axion 3 approfittiamo dell'abbastanza bella giornata ragazzi non c'è proprio un sole che spacca le pietre ma noi ci catapultiamo nelle foreste per fare l'inaugurazione di questa splendida macchina e cominciare a vedere così le prime sensazioni durante le vlogate durante le riprese e poi faremo dei commenti assieme in attesa di fare poi i test approfonditi sul campo sia da un punto di vista video sia da un punto di vista audio ma non perdiamoci in chiacchiere abbiamo ieri notte fonda ancora che stamattina configurato la macchina abbiamo caricato una delle tre batterie abbiamo messo le impostazioni più importanti quindi parliamo di lingua data ora la risoluzione nostra solita 1080p 50 fps tenendo conto che la macchina può registrare tranquillamente in 4k 120 come fare andare una ferrara 90 all'ora quando potrebbe fare i 300 all'ora ma noi non interessa assolutamente il 4k potrebbero interessarci i 120 o meglio addirittura i 240 fps in full hd che la macchina riesce tranquillamente a fare ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e buona visione di questo video il primo la prima uscita con la nuova action cam di dji come di consueto buona visione ed eccoci ragazzi in questo meraviglioso ambiente naturale ragazzi giornata allucinante indimenticabile oggi giornata di inauguraging della nuovissima fiammeggiante dji osmo action 3 come dicevo nell'intro abbiamo impostato i soliti 1080p 50 fps abbiamo impostato l'angolo di visione più stretta sapete che si può scegliere fra tre angoli di campo il più ristretto che è quello cosiddetto linear che è quello che non distorce a barilotto le immagini poi abbiamo l'ampio che ha una leggera distorsione è il superampio che è il massimo angolo di campo parliamo di 155 gradi che invece ha una distorsione abbastanza evidente chiaramente meno osservabile in ambienti naturali come questi ma sicuramente osservabile in in contesti urbani architettonici oltretutto abbiamo impostato anche il livello di stabilizzazione non il rocksteady ragazzi ma il balance a 45 gradi che non restringe assolutamente come anche rocksteady è chiaro che se disabilitate lo stabilizzatore avete comunque un angolo di campo più ampio poi c'è ancora il balance a 360 gradi che ragazzi purtroppo restringe parecchio anche il l'angolo di campo ma direi che è ben poco utilizzabile dicevo che oggi abbiamo una giornata di tempo abbastanza bello non abbiamo un sole splendido fantastico meraviglioso con un'aria limpida proprio per amminare al massimo il colore di questa splendida giornata di questa natura favolosa che stiamo praticamente riprendendo ci stiamo addentrando nei boschi l'adrenalina è a mille ragazzi io ho messo anche il case sulla videocamera che è un'ulteriore protezione già senza case la macchina grado di protezione ip68 può scendere 16 metri sott'acqua può attenzione addirittura cadere da un metro e mezzo non si fa un cristo chiaramente con il case è una protezione ancora in più la danno in dotazione quindi perché non usare il case in questo primissimo test di camminata ragazzi stiamo fondamentalmente valutando io riesco già apprezzare attraverso questo monitor qua questo mio frontale qui che è un 1,8 1,4 pollici non mi ricordo bene si può mettere poi in formato quattro terzi oppure sedicinoni io l'ho messo sedicinoni o forse è un tre mezzi non lo so comunque leggermente più piccolo direi abbastanza piccolo ma quello che serve per vedere se si è inquadrati correttamente giustamente dji ha fatto un lavoro eccezionale perché sul retro della macchina c'è un monitor parecchio più grosso che grosso modo deve essere grosso come quello della serie rx 100 sony ed è molto più importante quello più grosso sia appunto sul retro ragazzi perché proprio da lì noi riusciamo a quando inquadriamo una scena di fronte a noi abbiamo bisogno di inquadrare con molta più accuratezza mentre invece quando si vlogga è ovvio che basta ovviamente basta questo piccolo monitor frontale che ci serve per vedere se siamo inquadrati bene nella ripresa oppure no incominciamo subito a sfruttare una delle potenzialità più interessanti in assoluto di questo di questa meravigliosa camera ragazzi adesso io dalla posizione vloggata faccio una rotazione vedete incomincio a inquadrare il sentiero di fronte a me non devo fare nulla se non mettere guardare il monitor che ho dietro sulla camera che è decisamente più grosso tra l'altro rettifico quello che ho detto prima il monitor del rx 100 è decisamente più grande questo qua sarà un 2, qualcosa pollici non mi ricordo esattamente oltretutto vi ricordo che abbiamo anche impostato il sistema di stabilizzazione elettronica d'immagine non rock steadi ma balance steadi per cui io posso anche inclinare la macchina ma la macchina mi terrà comunque sempre l'orizzonte dritto possiamo notare a parte gli effetti di prospettici tipici del grand'angolo una totale assenza di distorsioni assenza che comunque chiaramente qui in mezzo agli alberi notiamo solo relativamente bisognerebbe camminare in mezzo a dei palazzi per notare questa distorsione ragazzi passiamo sotto questo arco adesso io giro di nuovo la camera verso di me dovreste anche aver notato un non troppo calo di livello gain d'ingresso audio perché mi dimenticavo di dire anche una cosa importante ragazzi questa macchina ha ben due microfoni stereo che si possono impostare o sulla modalità stereo oppure volendo mono e si possono selezionare soltanto quelli fronte camera in maniera da rendere il microfono direzionale in avanti cioè nella direzione di ripresa oppure attivarli tutti e cioè quelli frontali ma anche quelli superiori sopra la macchina per cui il microfono si comporta come omnidirezionale allora io presumo presumo ragazzi che parlando fronte macchina il gain sia sempre leggermente più alto che non dietro la macchina semplicemente perché abbiamo dei microfoni davanti e sopra non abbiamo dei microfoni dietro ma non importa la macchina dovrebbe comunque comportarsi come omnidirezionale o quasi diciamo insomma non è proprio un omnidirezionale a tutti gli effetti allora chiaramente stiamo riprendendo nelle foreste ragazzi non siamo in condizioni estreme non siamo nelle condizioni per cui è nata questa macchina non sta né diluviando né piovendo né nevicando né siamo a meno 20 gradi nemmeno a più 50 gradi ragazzi abbiamo una temperatura che secondo me è intorno ai 19 20 gradi una bella giornata non c'è neanche il vento per cui non riusciamo neanche a testare la funzione antivento tra l'altro sul microfono aggiungo anche questo ho impostato su attivo la protezione del vento che presumo che sia un anzi sono sicuro che è un semplicissimo filtro passa alto non ho ancora capito se è sempre permanentemente impostato in questa modalità oppure interviene soltanto quando il sistema rileva vento questo sarebbe poi una soluzione un pochettino più pregiata e anche un pochino più tecnologicamente avanzata rispetto a un passa alto fisso in ogni caso faremo poi i test sul campo approfonditi ragazzi qua siamo in condizioni di pendenza forte bisogna fare attenzione a non scivolare c'è la pauta per terra chiaramente non stiamo riprendendo in condizioni estreme ragazzi io questi queste riprese potevo farle anche tranquillamente con una normalissima videocamera come per esempio l'era x100 perché no anche la sony fdr a x53 proveremo poi sicuramente anche la macchina in condizioni veramente estreme ci aspetta l'inverno di conseguenza in inverno arriveranno poi magari giornate di nebbia dove si creano le goccioline sulla macchina ebbene questa non patisce un cristo di niente può esserci pioggia può essere neve può essere un freddo porco può essere tutto quello che vogliamo addirittura possiamo fare le riprese sott'acqua le prime sensazioni ragazzi importantissimo mi sento un senso di leggerezza un senso come dire di libertà ecco di libertà perché io non ho mai vloggato con una macchina così leggera mi sembra di avere in mano veramente un peso più ma tra l'altro dopo facciamo anche la prova con il pixi che ho portato che apposta per utilizzarlo come asta vlog e di conseguenza direi che veramente uno strumento estremamente versatile estremamente tra l'altro stiamo riprendendo anche contro sole possiamo fare i primi test di resistenza al flare anche se il flare qua dovrebbe essere abbastanza contenuto visto che il sole traspare attraverso i rami degli alberi osservo già un angolo ampio a un ampio angolo di campo cosa a cui non siamo abituati ragazzi perché il mio più spinto grand'angolo ce l'ho sulla sony rex 100 che un 24 mm qui invece parliamo di un 12,7 mm equivalenti al pieno formato 35 mm ancora ampliabile su due step ampio o super ampio l'angolo di campo arriviamo a 155 gradi ragazzi chiaramente tanta ma tanta ma tanta ma tanta ma tanta roba e ovviamente con 155 gradi anche lo step precedente non possiamo che non avere questi schifosissimi effetti di distorsione a barilotto ragazzi tra l'altro quei proprio quegli effetti cioè quelle ragioni per le quali io ho sempre pochettino snobbato le action cam peccato che le prime erano così avevi l'effetto ragazzi e te lo tenevi non c'è un cazzo da fare adesso mi devo chinare vedete devo passare qua sotto porco house ok adesso qua stiamo uscendo dal bosco arriviamo su un'immensa pianura che attraverseremo qua siamo già stati diverse volte qui ci potrebbe atterrare anche un turbo elica in emergenza non credo un bimotore a reazione abbiamo questo prato gigantesco lo troversiamo diciamo poi ci rimettiamo nelle foreste dove abbiamo anche situazione di luce un pochettino più critica fra alte basse luci quindi la gamma dinamica mettiamo ecco cominciamo a mettere subito a dura prova la gamma dinamica della macchina a proposito di gamma dinamica ragazzi allora questa macchina è stata un pochino criticata da alcuni recensori che sostengono che la gopro 11 uscita lo stesso giorno lo stesso data di lancio della action 3 della dji ebbene la gopro 11 sembra anche vedere dei test cambia intanto sto già notando qua i colori sul monitor frontale ragazzi va che roba abbiamo dei blu e dei verdi che sono spettacolari guardate che roba meravigliosa la cosa mi fa veramente piacere dicevo la gopro 11 della gamma dinamica un pelo superiore rispetto alla action 3 ma io mi sono fatto un ragionamento ragazzi mi sono detto c'è qualcosa che non mi quadra allora il la gopro 11 ha quello stranissimo sensore formato 8 settimi l'hanno fatto abbastanza sul quadrato per poter fare le riprese anche verticali che è una cazzata di quelle mastodontiche ragazzi non è possibile le riprese verticali sapete dove nascono queste riprese verticali scusate la parentesi quelle riprese verticali che vediamo su tiktok sulle storie di instagram addirittura sugli sort di youtube addirittura certe volte dei servizi al telegiornale tg5 si vedono delle riprese sono nate da un errore di ignoranti che facevano i video col cellulare dimenticandosi di capovolgerlo e metterlo in orizzontale il telefono cellulare si usa nel 99 per cento dei casi in maniera verticale per mandare i messaggi per vedere la post per internet per tutto quanto allora chiaramente tanti ignoranti si dimenticavano al momento in cui facciamo riprese video di capovolgerlo rotello di 90 gradi facevano i video verticali da questo errore che ha incominciato a diffondersi sul web alla fine da un errore cretino è nata una moda tanto è vero che adesso addirittura i produttori come gopro fanno delle macchine con dei sensori costruiti con dei formati apposta da poter fare riprese anche verticale da sfruttare bene sui social a loro dire a me queste cose fanno veramente ridere ragazzi cioè una roba così a me fa giuro mi fa venire la diarrea per non dire di peggio eppure 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 allora tornando a noi parlavamo di gamma dinamica in relazione al sensore dunque il sensore largo pro è un 8 settimi ma al di là del formato ragazzi parliamo sempre di un sensore che è più o meno un po più grande di metà pollice la dji nello specifico è un 1 fratto 1.7 la mia domanda è questa la dji è risoluta a 12 megapixel mentre invece la gopro 11 ha 27 megapixel mi sembra una roba del genere una soluzione molto 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 più alta quindi ha il fotodio di dimensione più piccola e quindi com'è possibile che la gamma dinamica sia superiore rispetto all'axion 3 anche se di poco c'è qualcosa che non mi quadra perché dovrebbe essere il contrario dovrebbe essere questa ad avere una gamma dinamica senza dubbio superiore se non altro per il fatto della risoluzione appunto notevolmente più bassa quindi dovrebbe essere molto più fortemente orientata ai video questa macchina qui e l'altra se mai alle foto perdendoci comunque qualcosa in gamma dinamica anche dal lato foto vedete eppure è vero quello che dicono perché io ho visto anche i test macchina alla mano anche il galeazzi ha fatto dei test dove si vede che in cieli molto luminosi mentre la dji impasta un po tutto il cielo le nuvole in una superficie bianco azzurro abbastanza omogenea la gopro 11 invece consente di riprendere maggior dettaglio ragazzi allora io penso questo la dji ha dichiarato che tra breve dovrà rilasciare camilla bisogna vedere dove bisogna scendere qua se è non ancora poi fra un po bisogna scendere giù di qua e ha dichiarato che lascerà tra breve un tra l'altro parentesi dovreste vedere sempre gli orizzonti perfettamente dritti ragazzi perché ho impostato la funzione balance allora adesso io inclino volontariamente la macchina vedete anzi voi non ve ne accorgete perché rimane sempre tutto perfettamente allineato io inclino anche di 45 gradi la macchina all'orizzonte non si inclina tanta roba ragazzi la prima macchina che mi fa questa funzione qua tanta 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 roba dicevo allora la dji e lascerà credo nel giro di un mesetto un nuovo firmare quindi un aggiornamento firmare per la axion 3 in cui sarà disponibile il colore a 10 bit contro gli otto che abbiamo adesso non è detto anzi direi che abbastanza probabile che al momento in cui ci sarà disponibile questo aggiornamento oltre ad estendere di parecchio la gamma comunque colori ci sarà anche un aumento della gamma dinamica ok ragazzi non ci crederete ma le riprese che avete visto fino a un istante fa erano di ieri oggi è un nuovo giorno sono passate 24 ore ragazzi perché è successo un imprevisto adesso vi racconto anche dell'imprevisto ma prima faccio una piccola modifica finora io ho fatto le riprese tenendo la macchina in mano ragazzi ma adesso pixi il mitico pixi ragazzi cavalettino di manfrotto da tavolo muretto tutto dove volete molto molto versatile molto molto valido con l'attacco sopra vedete questo qua per la proprio per la dji calza a pennello con la testa a sfera del cavalettino qualità eccezionale utilissimo per un sacco di situazioni tante volte succede in giro di trovare una superficie piana lo si appoggia poi si può vloggare davanti essendo liberi eccetera eccetera oppure si uniscono le sue zampe e funge da comodissima asta vlog in alternativa all'asta telescopica che la dji fornisce con appunto la videocamera e comunque devo dire che come treppiede è veramente molto pixoso ed eccoci qua con il nostro pixi ragazzi devo dire veramente tutta un'altra cosa è la comodità di ripresa che ha il pixi rispetto al tenere la macchina in mano così con lo rischio magari inavvertitamente di coprire uno dei microfoni con il dito direi che è impagabile veramente una cosa molto molto comoda ancora comodissimo io più passa il tempo più apprezzo tantissimo questo monitor frontale mi pare da 1.4 pollici tra l'altro quello posteriore da 2 2 qualcosa 2.2 non mi ricordo di preciso allora intanto proseguiamo questa giornata di inaugurazione dove sarà una giornata unica invece l'abbiamo praticamente fatta in due ma non c'è nessun problema stasera vediamo poi di unire anche già qualche ripresa in notturna che cosa è successo è successa una cosa molto semplice ragazzi allora io accendo la videocamera e un po di volte mi ha scritto non da ogni accensione ma ogni a due tre accensioni la macchina incominciava a scrivere tra parentesi qua entriamo anche un po in basse luci ragazzi e rispetto a ieri oggi è una giornata molto molto più nuvolosa adesso è anche abbastanza tardi siamo in un bosco quindi abbiamo basse luci vediamo un attimino come risponde questo come risponde appunto il sensore da un pollice fratto 1.7 cmos da 12 megapixel della axion 3 dicevo ogni due traccensioni comparivano a scritta su entrambi i monitor fare la configurazione praticamente con un qr code attivare la macchina attivare e io quando vedo queste cose ragazzi sono già bestemmie che volano perché fate tutte le impostazioni caricata la batteria fatto tutto quello che era necessario fare quando vedo queste cose qui ragazzi mi monta al cristo in un modo che voi non avete idea eppure cosa è è da fare poi solo più tre tentativi solo più due tentativi uno quando ho finito di registrare la precedente ripresa ragazzi la precedente vloggata che eravamo su quell'enorme prato che io chiamo la pista di malpensa no entriamo nel bosco faccio per attaccarla videocamera per continuare le riprese manco per il cazzo la macchina non ne voleva sapere di accendersi bloccata completamente cosa faccio allora finisco finiamo il nostro giro con camilla arriviamo a casa cerco di capire sull'istruzione sul manuale completo della macchina cosa fare per sbloccare sta cristo dio di qr code della minchia perché non funzionava più assolutamente era in stato di blocco totale allora vado leggo a si bisogna scaricare l'app dj mimo scaricare l'app poi con un lettore qr code che io non avevo sul telefono ho dovuto anche importare quello vabbè può anche essere utile per altri scopi il problema è che l'app dj mimo sul mio telefono non c'era verso di farla di scaricarla di farla partire assolutamente scaricava un file che però poi quando lo aprivi mi diceva operazioni in corso con i puntini sospensione ma non c'era assolutamente modo di utilizzare questa app e allora potete immaginare le porche madonna che ho tirato va bene chiamo il mio rivenditore di fiducia gli spiego la cosa e lui dice guarda io non ho provato a fare anch'io installare quell'applicazione ma niente non si installa chiamo la dj allora mi da un numero di assistenza la dj che inizia con 199 faccio per chiamare appunto l'assistenza faccio sto numero e mi dà che la chiamata non è inviata praticamente no invio fallito e subito mi arriva un messaggio sul telefono il credito residuo e di meno di 4 centesimi dunque ricarica prima di fare questa telefonata come se io avessi una ricaricabile ragazzi ovviamente non ho una ricaricabile io ho un contratto che pago un tot al mese e ho chiamate illimitate o tutto illimitato anche a parte gli sms che non si usano più ma anche i giga di internet e niente da fare allora provo a vedere se per caso era il telefono che si è inciucato provo a fare un numero normale un fisso funzionava tutta meraviglia ho provato a chiamare la regia ma risposto tutto a posto vola della favola niente insomma allora continuo le mie ricerche 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 e scopro finalmente che il problema era nel fatto del mio telefono che è un po vecchiotto dentro c'ho android 7 e quell'applicazione non gira su android 7 ma gira dalla 8 in su che cazzo ne so io non conosco i numeri allora chiamo il mio rivenditore di fiducia gli spiego la situazione nel frattempo anche lui aveva scoperto che c'era questo limite qua che sulle vecchie versioni di android l'applicazione non funzionava guarda l'unica cosa e vieni giù da me e lo facciamo un attimo insieme allora prendo parto vado al mio rivenditore di fiducia questo era oggi perché ieri era già un po tardino oltretutto il mio rivenditore non è proprio dietro l'angolo ho dovuto fare un bel po di chilometri e non vi dico le bestemmie che ho tirato comunque vado e niente e prova anche lui scarica l'app è riuscita a scaricarla poi passa il QR code fa la foto poi si bloccava poi chiedeva le mail poi chiedeva una password ho dovuto inventare la password poi non andava bene doveva essere di 8 caratteri anziché di 6 dopodiché ho dovuto di nuovo inventarmi un'altra password di 8 caratteri poi password non riconosciuta insomma non continuava a non funzionare a far girare i coglioni a me quando succede così veramente vado in bestia perché io compro una videocamera non c'è un marchio al mondo che richiede tutta sta cazzo di procedura di configurazione io sono anni e anni che compro fotocamere e videocamere per una volta che succede tra l'altro anche col drone col mavic 2 pro di dji niente cioè è partito subito va bene allora il mio rivenditore disinstalla l'applicazione la reinstalla forza di cristi madonna finalmente si è sbloccato e partito abbiamo sbloccato sto cazzo di videocamera la dji mette questo richiede questa procedura di sblocco semplicemente per far attivare la garanzia così loro sono sicuri che quella una tale nuova macchina una tale nuova garanzia attivata va bene l'unica cosa positiva è che nel mentre in cui abbiamo fatto questo sblocco il mio rivenditore mi ha anche fatto che a installare un aggiornamento firmare ragazzi che non so se l'aggiornamento quello famoso di cui vi accennavo che porta il colore da 8 a 10 bit perché io sapevo che quell'aggiornamento sarebbe stato disponibile nel giro di un mese o due o che sia un aggiornamento intermedio o che sia già quello non lo so ha una sequenza di numeri farò una ricerca in rete per vedere se quell'aggiornamento prevede anche il colore a 10 bit perché se fosse così sarebbe tanta roba bisogna solo controllare poi il bitrate che non va dalle stelle perché sennò mi mangia tanti di quei giga che la metà basta oltretutto io non ho bisogno di 10 bit come resa colore ragazzi a me bastano gli 8 bit non ho una macchina che registra a 10 bit tutte 420 8 bit adesso abbiamo anche il 420 10 bit o il 422 10 bit vabbè staremo a vedere e questo è quanto nel frattempo io continuo qua a vloggare con una comodità allucinante ne approfittiamo a dare un'occhiata a questo panorama ragazzi guardate panorama bellissimo se non fosse per il fatto che purtroppo qua abbiamo 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 un cielo nuvoloso vedete che l'orizzonte poi lo vedete abbastanza sempre cioè non abbastanza lo vedete sempre dritto per il semplice fatto che comunque ho impostato la stabilizzazione con il balance automatico per cui io posso anche inclinare la macchina ragazzi adesso la sto inclinando destra e sinistra e sto vedendo che non cambia un cristo tanta roba quindi questo video di inauguraging ragazzi sicuramente molto molto sudato e sofferto per delle ragioni che vi ho appena detto fino adesso sofferto allora adesso ci addentriamo ulteriormente ancora nel bosco la luce cala vediamo un attimino la resa di questo sensore tra l'altro io sto scoprendo poi tutto insieme a voi nel senso che comunque anche le riprese di ieri non le ho già viste sul grande schermo sul mio 40 pollici attaccato al computer per testare la qualità eccetera eccetera io sto registrando qua sulla fiducia e anche le riprese che farò poi stasera quelle lì notturne magari adesso vediamo un attimino se farle non è ancora sicuro dove farle in quali contesti sappiamo che il sensore comunque chiaramente di un axion camper grosso che sia più grosso dei precedenti su questa ci mancherebbe e migliore è la resa in basse luci o meglio quello che dà la buona resa in basse luci non è la dimensione in valore assoluto del sensore ma è il rapporto dimensione risoluzione perché se noi abbiamo un grande sensore ma è iper risoluto siamo di nuovo a capo quello che conta è la dimensione dei singoli fotodiodi che consentono un'ampia gamma dinamica e anche comunque una buona resistenza agli alti iso per quello che riguarda la resa colori ragazzi poi vediamo un attimino vediamo se perché questa è una mia idea allora a me sono non concesso che il nuovo firmare ragazzi cambio mano prendo l'altra adesso perché fa male il braccio dicevo la resa colori e questo nuovo firmare non lo so se è già lui se è già lui vuol dire che dj ha anticipato i tempi o meno che consente di registrare quindi i colori a 10 bit io presumo che questo passaggio dagli 8 e 10 bit comporti anche un aumento della gamma dinamica che era l'unica pecca di questa videocamera rispetto alla gopro 11 che ha una gamma dinamica più ampia leggermente più ampia potrebbe essere che con un firmare risolvano anche o comunque migliorino la gamma dinamica quindi potrebbe essere che la gamma dinamica si avvicini parecchio a quella della gopro 11 se così fosse io sono abbastanza convinto di questa cosa a questo punto ragazzi la osmo axion 3d dj non ha proprio più nulla ripeto ma nulla di zero di un cazzo di niente da invidiare alla gopro 11 tenendo conto che poi come abbiamo detto già diverse volte la gopro 11 c'è anche quella quella antipatica cosa di piantarsi no ogni tanto non soltanto e patisce le alte temperature e sensore ma ogni tanto si pianta così perché decide di piantarsi e si pianta questo è quanto ragazzi scusate il tono di voce oggi non proprio molto brillante ma i riservi hanno fatto poi tardi sono rimasto fino a tarda ora a cercare di capire quel cazzo di trovare un modo per sbloccare sto qr code della minchia della videocamera e rispetto a ieri sono un pochino un po di sonno da recuperare comunque non è un problema e niente adesso vediamo di fare ancora due riprese dopodiché vediamo di fare qualcosa anche di notte ok ragazzi allora siamo passati adesso dalla stabilizzazione horizon balance alla roxte adi ragazzi che è una stabilizzazione un pochettino meno forte e soprattutto non bilancia l'orizzonte cosa vuol dire che se io inclino la camera vedete l'immagine si inclina come qualunque altra videocamera che differenza ha rispetto al horizon balance che in questa modalità l'angolo di campo è più grosso e più ampio si può poi regolare ancora più ampio e più ampio ancora con le modalità di diciamo fra virgolette di inquadratura insomma direi che questo stabilizzatore è sicuramente molto efficiente non stabilisce cioè non tiene in bolla l'orizzonte non so se però è anche una stabilizzazione proprio contro gli scossoni maggiori maggiore rispetto all'altro potrebbe anche essere visto che l'angolo di campo più grosso vediamo insomma proviamo adesso a fare un pan con un angolo di ripresa più ampio rispetto a prima ok ragazzi adesso abbiamo un angolo di campo ancora più ampio rispetto a prima però abbiamo una leggera distorsione d'immagine a barilotto che noi adesso non notiamo perché non abbiamo superfici verticali e orizzontali però diciamo che l'angolo di campo è ancora più ampio di prima adesso proviamo quello super ampio ok adesso abbiamo un angolo di campo super ampio ultra ampio questo è l'angolo di campo più ampio che si possa avere o meglio quasi volendo avere ancora più angolo di campo ragazzi dovremmo disattivare completamente la stabilizzazione adesso la stabilizzazione ce l'abbiamo su rock steadi con l'angolo di campo quello pardon con la con la stabilizzazione disattivata abbiamo in assoluto il più ampio angolo di campo vediamo di fare qua un pan con questo angolo di campo così elevato guardate è veramente veramente un grandangolo straordinario mai visto un angolo di campo ampio così ragazzi è amplissimo veramente ampio 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 io sono a pochi metri da camilla e sembra di essere a 50 metri in realtà adesso mi avvicino vedete però camilla adesso sono vicinissimo ma camilla sembra sempre ancora lontana perché ecco perché abbiamo un ultra grandangolo va bene torniamo torno su di me ragazzi io questo angolo di campo così ampio non credo di usarlo molto perché veramente eccessivo poi vabbè qua in natura nei boschi non ci sono problemi ma l'angolo di campo più ristretto che credo che sia quello equivalente ai 12.7 mm rispetto al piano formato sia il migliore anche perché è quello lineare quello che non distorce a barilotto le immagini ok ragazzi siamo passati di nuovo con il grandangolo lineare abbiamo però disinserito l'anti vento adesso vento non ce n'è non ce n'era neanche prima e vediamo un attimo se è cambiato qualcosa a livello di qualità audio la cosa particolare è che questi test servono sicuramente per voi per rendervi conto un attimino di come lavora la macchina ma servono anche per me perché sono le primissime prove che faccio e dicevo tutte le registrazioni prima erano con il dispositivo anti vento inserito questo invece questo modo è disinserito possiamo fare anche una prova ragazzi quando io audio quando io parlo dietro alla macchina camilla cristo basta ok facciamo di nuovo un'altra prova di nuovo con me davanti all'inquadratura adesso c'è una leggerissima arietta ma non penso che sia elemento di disturbo la cosa da scoprire è se l'anti vento ecco adesso c'è un po di arietta forse si sente qualcosa prima in teoria non doveva sentirsi nulla la cosa da scoprire è se con l'anti vento inserito diciamo così c'è un filtro passa alto fisso di quanto è cioè da quanti hertz in giù taglia e soprattutto se è fisso oppure se cambia nel senso se è talmente sofisticato di intervenire solo quando rileva il vento ragazzi queste sono tutte prove che possiamo fare però chiaramente bisogna fare un po di test ok siamo di nuovo arrivati non sono ancora abituato a un angolo di campo così ampio ragazzi perché io mi rendo conto che posso tranquillamente muovere la macchina e io non scappo dall'inquadratura invece con le altre videocamere che hanno meno grande angolo bisogna farci un pochino più attenzione qua ci si può distrarre un po di più dicevo siamo di nuovo tornati con l'audio con la modalità antivento inserita adesso quel venticello che c'era prima non c'è più si c'è giusto un pochino di arietta vediamo e vediamo di capire anche testare l'efficacia mila di qua vieni l'efficacia di questo dispositivo chiaramente ragazzi sulle videocamere l'antivento allora scusate la parentesi se noi vogliamo ridurre i rumori del vento dobbiamo mettere intanto dobbiamo avere un microfono esterno cosa che tutte le videocamere serie hanno compresa le mie e sopra o la classica spugnetta nera o meglio ancora il gatto morto che è il dispositivo in assoluto più efficace per la riduzione del vento in alternativa se volessimo utilizzare i microfoni incorporati delle videocamere quasi tutte le videocamere hanno una funzione attraverso menu attivabile di riduzione del vento che è quasi sempre un filtro passa alto anzi non quasi sempre che è sempre un filtro passa alto però bisogna vedere le macchine di basso livello hanno un filtro passa alto che taglia da un tot di hertz audio in giù taglia le basse frequenze è fatta finita e poi alcune hanno anche un filtro passa alto e cioè taglia basso che che però taglia da troppo in alto per cui più si taglia in alto ragazzi maggiore è l'efficacia di riduzione del rumore del vento ma peggiore è la qualità audio perché le basse frequenze indipendentemente dal vento non vengono poi registrate le videocamere invece un pochettino più sofisticate tipo per esempio la sony fdr x53 nel caso di utilizzo del microfono incorporato hanno una modalità automatica e che funziona che se il microfono rileva vento interviene il filtro e può intervenire anche in maniera variabile non fissa può intervenire di più o di meno a seconda di quanto intenso il vento quando invece il vento non c'è il filtro si disattiva e questo è il miglior sistema in assoluto parlando di microfoni incorporati ovviamente microfono esterno lì avete le vostre spugnette e gatti morti nel frattempo la luce sta calando sempre di più ragazzi stiamo facendo un salitone tra l'altro ho già utilizzato parecchio la batteria ho fatto una carica della prima delle tre batterie ho fatto la registrazione di prova così per i cavoli miei ho registrato ieri ho registrato oggi tenuta tantissimo accesa ieri sera la telecamera per cercare di capire sto film ma quindi due monitor accesi per buona parte la sera oggi è stata accesa sia o no un'ora presso il mio rivenditore e sono arrivato al 18 per cento di carica quindi autonomia tenendo conto che la prima carica ragazzi tanta 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 roba ok ragazzi ultima ripresa con l'angolo di campo quello più ristretto quindi quello linear senza distorsioni a barilotto e senza stabilizzatore ragazzi allora adesso qua facciamo affidamento proprio solo esclusivamente sul grandangolo che già di per sé aiuta a stabilizzare l'immagine vediamo però io sono adesso curioso di vedere quanto si nota il tremolio anche durante la camminata quindi siamo attenzione senza stabilizzatore ragazzi senza stabilizzatore vediamo di prendere la macchina ruotarla ok scusate ma io non sono ancora abituato a questi grandangoli estremi ogni tanto mi scappa il dito davanti all'obiettivo la cosa non è certo voluta ed ecco qua un pan è ovvio che abbiamo un grandangolo superiore rispetto anche soltanto al rock steadi torno indietro notiamo già un po gli effetti del grandangolo estremo torniamo ancora indietro ed ecco di nuovo la camminata ragazzi una figata il fatto di ruotare la macchina dalla modalità ripresa davanti di paesaggio alla modalità vloggata togliere lo sguardo da un monitor e metterlo su un altro monitor fronte camera non esiste una videocamera o fotocamera che abbia questo doppio monitor grande dji numero uno veramente mi pare che l'abbiano inventato loro questo trucco qua non sono proprio sicurissimo e poi gopro l'ha copiato successivamente ma chi ha inventato il doppio monitor ragazzi la dji tra l'altro l'autonomia prima che parlavo di batterie sempre comunque con tutto attivo stabilizzazioni anche in modalità molto efficace molto forte e doppio monitor accesi sempre voi sapete che si possono disattivare si può disattivare o solo quello davanti o solo quello dietro anche tutte e due a quel punto guadagniamo autonomia però ragazzi una volta che voi prendete la adventure combo che è questa che ho preso io è ovvio che avete tre batterie per cui insomma chi se ne frega dei consumi io tengo sempre due monitor accesi perché sono talmente comodi questi due monitor intanto notiamo sempre qua se ci sono vibrazioni dovute alla camminata siamo senza stabilizzazione ragazzi se l'immagine balla un po' è anche normale non dovrebbe ballare proprio di tanto perché comunque siamo sempre con un ottimo grandangolo e niente vediamo vedremo i risultati li vedremo poi assieme perché io qua non avendo ancora fatto prove essendo questi primissimi test sarà una sorpresa per me come per voi ok passiamo adesso di nuovo alla stabilizzazione rocksteady ragazzi così possiamo fare il confronto diretto abbiamo attivato la stabilizzazione quella più blanda diciamo così che però alla fine forse quella che si usa di più interessante anche la balance steady molto molto valida mi apparsa una scritta una scritta gialla che mi avvisava che la batteria sta calando sì adesso siamo al 9 per cento in questo preciso istante va bene ok no dicevo le stabilizzazioni allora quella lì horizon balance a 360 gradi croppa troppo ragazzi no direi che poi non serve perché quando mai uno inclina inadvertitamente la videocamera più di 45 gradi a meno che non sia ciucco perso quindi non ha nessun senso la balance a 45 gradi invece può avere senso e come perché aiuta comunque a tenere gli orizzonti dritti se no la rocksteady chiaramente ragazzi la rocksteady consente anche di ottenere degli effetti di questo tipo no durante le riprese scusate sempre se ogni tanto passo il dito davanti all'obiettivo ma devo ancora abituarmi a questo grandangolo così estremo nel frattempo valutiamo anche la stabilità di camminata in avanti la luce si fa sempre più scarsa ragazzi tenete anche presente che abbiamo tolto il pixie quindi queste riprese qua sono senza pixie facciamo un po di rasetta alle piante qua per vedere l'effetto sempre molto figo qua questo effetto tipico del grandangolo sembra di camminare velocissimo in realtà siamo alla classica camminata da 445 kmh ok ragazzi ultime riprese in basse luci qua siamo davvero in basse luci stanza anche direi abbastanza scarsamente illuminata soltanto da un faro led tutto il resto spento e vediamo un attimo come si comporta la macchina